ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale di giorni 8 finalmente si torna al campo finalmente cingomma potrà affrontare il secondo turno di qualificazione al torneo rolanda rossa al torneo al secondo torneo annuale del grande slam in cui insomma mi piacerebbe arrivarci per lo meno arrivare a mettere il campo i piedi in campo nelle partite che contano già il primo turno per me sarebbe diciamo un buon un buon risultato perché come avevamo già detto nel precedente video e ormai risalente a qualche giorno fa purtroppo per il problema che ho avuto e come avevo già detto il nostro obiettivo sarà arrivare a mettere il piede in campo al primo turno del rolanda rossa quindi passare giusto le qualificazioni perché insomma per noi per il nostro giorni cingomma 17 anni 183 centimetri per 120 kg sono esagerati forse li devo modificare non so perché è andato a 120 kg detto questo insomma quello che conta sono i 17 anni mettere già il piede in campo già nelle qualificazioni per il torneo del grande slam di che si svolge a maggio ragazzi a giugno insomma è già è già importante è già importante se si riuscisse arrivare già al primo turno sarebbe ancora più bello abbiamo il nostro salvatore caruso che proverà a contenderci il secondo turno di qualificazione vediamo un po' come andrà a finire ragazzi noi siamo carichi dobbiamo fare un buon match fatto come è fatto insomma come è successo nel precedente match del primo turno di qualificazione dobbiamo mantenere altra concentrazione dobbiamo mantenere alto la prima di servizio la percentuale prima di servizio insomma è tutto quello che sappiamo ragazzi quindi ci siamo scegliamo di essere in risposta scusatemi mi sistema un attimo il monitor ok siamo si era un po' abbassato siamo in risposta dunque siamo sul camp philip chatree ragazzi il centrale del rionanga ros di parigi salvatore caruso italia giudici in gomma italia ah ci tira un bel colpo lungo linea 15 0 peccato dobbiamo cercare un bravo bello bravissimo caruso 30 a 0 dobbiamo cercare dicevo di picchiare forti e non tardi la palla debole di là se no ci mette in difficoltà come è successo infatti bel servizio a 165 km di caruso iniziamo anche noi però a picchiare un pochino caruso è del challenge ma secondo me è fuori infatti è fuori quindi 30 15 ecco il primo 15 del match di cingomma bella roba bella roba 30 pari ragazzi siamo carichi seconda di servizio la prima seconda del match di caruso dopo due servizi con un'ottima prima un contropiedone è stato furbo e bravo 40 30 lunga la prima di nuovo secondo di servizio quindi non facciamo lo stesso errore di prima magari l'abbiamo fatto di nuovo ragazzi chiedo challenger ma era ampiamente buona la palla infatti era proprio dentro addirittura peccato abbiamo fatto lo stesso errore ragazzi quindi 1 a 0 per caruso e adesso servizio ci in gomma buono servizio dritto 15 0 a lungo linea bello a meno male sulla riga abbiamo rischiato tanto abbiamo rischiato tanto 30 ragazzi buono ragazzi buono però chi non risica non rosica dice quindi bello così bene così il rischio ci rifaga ragazzi bella roba lunga buona e la rete viene che ti preparo il lob e di caruso bello che ci in gomma c'è al lob pronto ragazzi bello bravissimo bello scambio gestito e tenuto tutto da caruso manovrato come a mano ci ha manovrato come li pareva caruso praticamente questo scambio 30 15 dunque abbiamo cambiato l'angolo di servizio qua ci scappa 30 pari peccato si ripete la prima meno male è andata bene mamma mia ragazzi 30 40 palla brecche che vuol dire set point per caruso incredibile dal 30 0 al 30 40 ragazzi 3 punti di fila per salvatore caruso doppio fallo consegniamo con un doppio fallo il set a caruso ragazzi che errore imperdonabile dice in gomma ritorniamo subito al gioco perché non dobbiamo perdere la concentrazione che abbiamo eccolo passante non la prende caruso pensavano la prendesse 15 0 ragazzi dobbiamo impegnarci un pochino perché se no è un problema dobbiamo già salutare l'angaro se no ancora prima di metterci piede del tutto dentro diciamo e cingomma non lo vuole salutare quindi si deve un po' impegnare ecco il lob brutto però questo lob abbiamo un po' questa com'era meno male da fuori perfetto se no c'era anche da ripetere il punto e non lo volevo ripetere 15 pari che c'è uscito proprio un lob scomodo un lob brutto no scomodo mamma mia come picchia caruso ragazzi bravo caruso bravo con questa palla tagliata 30 15 ci sta mettendo abbastanza in difficoltà non sarà semplice per niente passante però adesso 30 pari ci siamo anche noi in campo facciamole vedere che ci siamo anche noi ragazzi la contropiede il classico contropiede che mi prendo sempre questa è una cosa che dobbiamo assolutamente migliorare perché così si perde tantissimi punti almeno due o tre a partita in questa maniera ne li regaliamo detto fatto di nuovo è già il quarto contropiede che prendiamo in partita 1 a 0 di però credo e dunque caruso di nuovo come il primo set e le cose si fanno toste e dure ragazzi si fanno veramente difficili non buono meno male che va fuori però c'è andata bene 15 0 ragazzi non entra qua la prima purtroppo troppo lunga seconda di servizio dunque doppio fallo clamoroso 15 pari clamoroso cingomba ragazzi clamoroso veramente è rischiato un paio di volte qua meno male che varrete la palla questo è buono 30 15 ma ho provato in lungolinea non è passata 30 pari a due punti dal match caruso ragazzi attenzione fa brutta la situazione qua a seconda di servizio per il nostro cingomba meno male buono 40 30 fondamentale questo punto ragazzi da fare buono ragazzi muoviamo il risultato anche noi finalmente uno fuori di nuovo servizio di caruso ah bello ragazzi bello profondo profondo questo attacco di caruso 15 0 e di nuovo il controfiede ragazzi queste palle flushe così non dobbiamo farle arrivare perché altrimenti ci becchiamo il controfiede in pieno 30 0 dunque seconda di servizio adesso ma 40 0 incredibile lungo buono 40 15 giusto per allungare un po' lo scambio ragazzi onda di servizio di caruso e di nuovo con quel controfiede maledetto è già il sesto punto ragazzi che ci prendiamo così 2 a 1 quindi per caruso quindi noi dobbiamo cercare di rimanere in partita sperando di riuscire a conquistare questo turno di servizio nostro e poi proseguire per il tie break ah ero raccio il 0 15 questo era un calcio di rigore lo abbiamo sbagliato malamente proprio resta in campo buono 15 pari andiamo avanti così bello 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 30 15 un po' sfiduciato oggi il notching home ragazzi è un po' diciamo sfiduciato mi manca un po' la fiducia perché era un po' che non giocava e quindi è non ha più quella sicurezza delle ultime partite speriamo di riprenderla piano piano 40 15 magari con qualche buon risultato e qualche buon turno di servizio nostro forse potremo anche riprenderla velocemente crediamo il challenge speriamo sia buona speriamo sia buona no purtroppo era lunga quindi 40 30 ancora comunque una palla del tie break abbiamo a disposizione vediamo di sfruttarla qua purtroppo non c'entra la prima bello con la seconda però uh che rischio abbiamo preso qua larga c'è la seconda e no la seconda scusate c'è la c'è il tie break ragazzi c'è il punto dicevo quindi si prende il secondo game anche noi e si va al tie break buono 1 a 0 c'in gomma prendiamo subito un mini break di vantaggio speriamo di confermarlo subito sarebbe fondamentale per la nostra insomma tranquillità e il nostro morale anche direi uh bravo 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 qua è stato bravo con questo lungolinea 1 fuori ragazzi è stato bravo nascosto fino all'ultimo secondo praticamente no brutta cosa non ci voleva 2 a 1 caruso non ci voleva per niente per proprio niente questa qua prima di servizio però che non entra seconda di servizio passa per un pelo la palla di paruso mi sembrava quasi andare in rete per la prima invece è sempre lì che combatte come un mostro proprio non vuole mollare bella roba stavolta li va in rete 2 pari sono tutti due i punti sul sul tabellone 2 a 0 2 a 2 2 a 2 incredibile vediamo se il 2 sarà anche il numero di servizi tolti a caruso in questo game ancora cingomma bravo difesa solida a ricordare raffaele nadar ragazzi la difesa solita di cingomma 3 a 2 sono di nuovo sono dunque due i servizi tolti nel game qua del time perché insomma del turno di servizio del nostro caruso non nel game scusate e adesso si riparte ragazzi 3 a 2 ultimo punto prima di girare il campo andrebbe conquistata la grande caruso ce la vuole rendere difficile ma lo conquistiamo però adesso 4 a 2 e si gira ragazzi si gira sul 4 a 2 vediamoci un attimo le statistiche così riprendiamo un attimo di fiato abbiamo una percentuale prima servizio di cingomma un po' bassina 52% 65% caruso insomma insomma 0 ace un servizio vincente caruso 0 noi 2 doppi falli nostri che pesano un po' però abbiamo 7 errori gratuiti nostri contro i 15 di caruso quindi pochi contro tanti a sua volta caruso 12 bei vincenti di cui 6 o 7 in contropiede 4 vincente di cingomma detto questo torniamo quindi pure in campo e insomma è un po' è un po' così la sfida è un po' così compensiamo i nostri pochi errori gratuiti con i nostri pochi tiri vincenti 4 a 2 servizio cingomma si riparte ragazzi e si riparte dopo questo spot pubblicitario si riparte al volo più o meno diciamo bella adesso è il capo questa omine gambini cingommino bravo così con la tua difesa solidissima come prima dai eh questa era imprendibile ragazzi 4 a 3 purtroppo questa l'abbiamo provato ma ci ha buttato veramente fuori dal campo con questo dritto e prendere questa volera presso che impossibile no perché impossibile no però magari bisognava essere un po' più raffa ecco diciamo per prenderla anche questa è imprendibile 4 pari dunque basterebbe fare un punticino a noi in realtà per metterne un po' con il fiato sul collo ecco il lob non ci credo ragazzi 5 e 4 per Caruso peccato 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 veramente ragazzi Caruso ha la possibilità con un punto di andare a servire un match point cioè di andare a giocarsi un match point 5 pari da qui in avanti chi fa punto sarà set point per me match point per Caruso inutile dire che non voglio affrontare un match point adesso quindi no lo dobbiamo affrontare ragazzi match point Caruso dunque buono sbaglio da solo il match point 6 pari ragazzi si gira di nuovo servizio ancora per Caruso l'ultimo servizio vediamo un po' che succederà ecco che avanza a rete la volé no di nuovo match point peccato ci ha fregato con questa piccola volé non con la prima ma con la seconda no la prima volé invece stavo scherzando 7-6 di nuovo match point per Caruso dunque ragazzi il nostro il nostro sogno il nostro sogno finisce qua un sogno infranto un sogno infranto per il nostro cingomma che si vede costretto ad uscire da Roland Garros e neanche metterci piede piede dentro ragazzi solamente le qualificazioni solamente le qualificazioni per il nostro gionni cingomma purtroppo ragazzi è andata così è andata così non abbiamo ormai come si dice non abbiamo potuto fare il nostro Roland Garros siamo un po' diciamo ecco come si dice un po' demoralizzati da questo però ragazzi purtroppo non è un territorio un territorio nostro il Roland Garros non è un nostro il nostro territorio diciamo lo sappiamo insomma 17 anni posizione 154 in classifica abbiamo poca esperienza alle spalle non abbiamo tantissimi punti fatti come vedete rispetto acqua su chi ne fa tanti attenzione Tsitsipas prima posizione in classifica generale prima posizione e neanche poi di poco ma neanche di tanto dai un 600 punti circa 630 punti neanche di poco neanche di tanto mentre ovviamente il secondo gioco dice il terzo Rafa che anche lui è lì 9100 punti poi TM Zverev e poi il nostro Matteo Berettini ragazzi in sesta posizione ancora grandissimo grandissimo troviamo dei nostri anche Fabio Fognini insomma è un po' così la classifica Andy Murray che è di salita incredibile Kenny Shikori Kenny Shikori non vedo ah eccolo qua Daniel Medvedev è settimo Monfields è fedele è ottavo probabilmente perché Roger no in realtà sta giocando anche parecchio Roger come tutti gli altri ma non riesce a vincere TM pensavo che anche lui andasse più su però magari piano 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 risale dalla classifica ragazzi noi purtroppo siamo qua giù ovviamente qua giù per modo di dire perché siamo partiti da qua giù ragazzi da essere il signor nessuno con zero punti siamo arrivati ad avere ben vediamo un po' se lo trovo aspetta 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 eccolo siamo arrivati ad avere che casino è siamo arrivati ad avere 273 punti qualche punto fatto in quella ragazzi come potete vedere nelle varie settimane abbiamo vinto tre tornei qua di quelli piccini mi sembra poi parecchi zeri 4 zeri consecutivi ragazzi in cui non facevamo più vittoria abbiamo vinto un nuovo torneo ATP challenger da 80 punti poi altri brutti risultati una nuova vittoria e insomma piano piano siamo arrivati alla settimana in cui siamo adesso alla settimana numero 20 dove anche qua purtroppo non ci ha portato dei punti di nuovo perché le qualificazioni sono andate male ragazzi mi dispiace tantissimo speriamo che nel prossimo prossimo torneo vada meglio magari sarà questo qua di Alessandra oppure vediamo che cosa ci propone il calendario più avanti perché comunque sappiate che fra ben 4 fra sole fra sole praticamente tre settimane avremo la possibilità di andare a partecipare spero alle qualificazioni di Wimbledon sarebbe sarebbe una cosa figa sarebbe una cosa figa quindi magari noi ci butteremo su un torneino qua ad Alessandra per un challenge da 80 punti poi faremo magari una settimana di riposo dopo proveremo a competere al Queens magari al Queens il classico torneo del Queens che dà l'apertura diciamo più o meno l'apertura alla stagione in erba quindi a vari tornei sull'erba e dopo proveremo sperando di aver fatto ancora più punti per qualche risultato allora il torneo da 80 punti lo voglio vincere assolutamente perché 80 punti ci farebbero comodo in classifica ora andiamo a vedere con 80 punti vincendo il torneo di Alessandra dove andremo poi un buon risultato al Queens per poi riuscire magari ad arrivare a Wimbledon che non ci serve neanche la wildcard insomma la qualificazione scusate non la wildcard e riuscire a giocare subito sarebbe già buono perché se noi si rifacesse già 80 punti 80 punti si va a 273 373 si va a 353 punti in classifica e insomma ora ci sono tanti punti di distacco fra una posizione non è più come prima ragazzi non è più come prima che 80 punti ci fanno schizzare alle stelle e quindi si farebbe un balzo in avanti di una trentina di posizione comunque in questa zona qui sotto il nostro Luca Vanni e sopra il nostro Yannick Sinner si ci posizionerebbe in posizione 118 punto a caso se riuscisse a fare la tp 250 alti 30 40 punti che non sarebbero male non ci farebbero schifo quanti punti ci ha dato la tp 250 12 non tantissimi va bene punto a caso altri 40 punti diciamo 30 40 punti si andrebbe a 360 390 si andrebbe intorno alla posizione numero 100 e allora potremmo essere quasi anche qualificati automaticamente per il torneo del Wimbledon ragazzi il championship inglese il grande slam numero 3 dell'anno Wimbledon sulla stagione con l'inizio della stagione di erba su erba ovviamente il torneo più famoso il torneo della regina diciamo e niente quindi ragazzi mi raccomando state con me ho parlato fin troppo vi do appuntamento ai prossimi video mi raccomando pronti a fare il tipo al nostro cingomba perché la stagione è entrata nel vivo come vedete e insomma stiamo andando veramente alla grande la nostra risalita della classifica piano piano sta riuscendo ci vuole tempo siamo giovani ma ce la metteremo tutti grazie a venire ragazzi ci da appuntamento come sempre qua su Johnny Otomemi 8 gaming nei prossimi video mi raccomando iscrivetevi al canale ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti